Amava tantissimo la Giamaica e sull'isola caraibica ha vissuto le sue ultime ore. A Negrilla, nota località turistica, con spiagge da sogno, si è spenta Patrizia Besio, operatrice turistica di 46 anni, originale di Poggi Ridenti, vittima di un assalto in villa nel quale ha perso la vita anche il marito Osborne Richards, uomo d'affari giamaicano di 49 anni. Fatali colpi d'arma da fuoco, esplosi dai malviventi in direzione dei due coniugi, spari che anche i vicini di casa hanno sentito. L'abitazione di Patrizia Osborne è stata messa a suo quadro dai rapinatori. All'appello, secondo una prima ricognizione, mancherebbero un frigorifero e un televisore con attrezzatura elettronica. La pista principale imboccata agli inquirenti giamaicani è stata fin da subito quella della rapina sfociata in tragedia, nell'uccisione di marito e moglie. Contiamo di riuscire presto a individuare e arrestare i responsabili dei due omicidi, ha dichiarato la stampa giamaicana il capo della polizia che coordina le indagini. Prezioso è l'impegno profuso in queste ore dal consul italiano Kingston. L'isola deve fare i conti con un'ondata di violenza. Incredibile, basti pensare che nell'area di Westmoreland, di cui Negril fa parte, dall'inizio dell'anno sono stati commessi 72 omicidi. Pochi giorni fa Patrizia era in Valtellina, nella sua poggi di denti. A poca distanza da casa, l'incontro con il fotografo Luca Giannatti, uno degli ultimi amici valterinesi a vederla prima della partenza per la Giamaica. Sì, ci siamo incontrati per caso in un supermercato, ci siamo salutati, sono stati molto felici di vederci perché era anni che non ci vediamo più, sapevo che lavorava, che stava in Giamaica. Mi ha detto che sarebbe partita subito, il giorno dopo, che devo tornare là per lavoro, devo tornare in Giamaica per lavoro. Quanti giorni fa l'hai vista? Ma sarà stato una decina di giorni fa, il giorno prima di partire. Mi ha detto che il giorno dopo sarebbe partita. Ha finito la stagione, ha finito la stagione sul lago di Garda e il giorno dopo sarebbe ripartita. Cosa ricordi di lei? Ricordo che è una ragazza molto solare, simpatica, allegra, spensierata, una bravissima persona, molto affabile con tutti, una persona molto socievole, con cui non facevi fatica a fare amicizia. E questa notizia fa ancora più male? Senz'altro, sicuramente. Indubbiamente sì, infatti mi sono rimasto male quando l'ho saputo.